Abbiamo sentito una testimonianza al più alto livello mondiale da parte di Brian Fitzpatrick, responsabile di Google del settore e adesso guarderemo il punto di vista italiano non solo sull'Italia ma con un occhio naturalmente alle dinamiche normative e operative anche internazionali. Lo facciamo con il primo intervento con il dottor Antonio Apruzzese che è capo della Polizia delle Comunicazioni e Postali in Italia, qui vorrei dare non un dato ma un mood, un sentimento, la Polizia Postale italiana come tutte le competenze di settore nelle istituzioni italiane sono al più alto livello mondiale e questa è una cosa di cui spesso noi italiani non conosciamo i termini, dall'estero chiedono alle espertisi italiane l'UMI su come si proceda in questi casi. Quindi siamo onorati di questa considerazione nazionale e io le darei subito, dottor Apruzzese, la parola al direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni italiane. Grazie di averci invitato e di averci voluto qui. Questa occasione è particolarmente importante e significativa perché concede quelle grandi possibilità connesse alla cooperazione che è fondamentale non solo tra paesi, tra continenti perché oramai parliamo di questo, ma anche tra vari operatori che all'interno di uno Stato, di una compagine nazionale operano, quindi aziende ed altro. Ed è una solidarietà, una cooperazione che è oramai indispensabile e lo diventa sempre più. I contatti che abbiamo già avuto stamane con il nostro ingegnere di Google ci hanno consentito di fare chiarezza su alcuni punti e quindi di trovare delle chiavi per migliorare un po' quella che è la capacità doppia, cioè quella di tutelare i diritti degli utenti, come dice il titolo del meeting odierno, quella di poter procedere a livello investigativo nel caso ci sia commissione di reati. Il campo è enorme, sconfinato, ho molto apprezzato e riflettuto sulle considerazioni del professor Pizzetti in apertura che sostanzialmente ci ha richiamato la oscillazione di tutte le tematiche e i dibattiti, parliamo del settore investigativo, tra libertà assoluta, primo emendamento degli Stati Uniti, libertà assoluta della informazione e l'altro, il quarto, in tema di potere dell'autorità di intervenire per reprimere condotte devianti o fatti che pongono in pericolo la sicurezza. Ecco, è tra questi due poli che vanno individuate le situazioni migliori per poter procedere e sicuramente, e lo diciamo fondamentalmente come organismo di polizia giudiziaria, sicuramente tutti gli interventi in questo delicatissimo campo, e lo ribadisco mille volte, delicatissimo perché attiene alla libertà di informazione e a più ampi principi di libertà che riguardano quello della rete e tutto il resto, è fondamentale che gli interventi qualora l'autorità, gli effettui, siano appoggiati da profonde valutazioni sulla sostenibilità dell'impatto per usare un termine oggi di moda, sulla bilanciamento, sulla ponderatezza e sul tipo di interessi che si possono andare a comprimere per farne saltare quali altri e quindi contemperare questi spesso confliggenti interessi. E siccome questo tipo di valutazioni sono affidate ad un'autorità terza che è appunto l'autorità giudiziaria, è ad essa che ci si rimette solitamente ed abitualmente ritenendo tutti concordemente che parliamo di autorità giudiziaria, quindi non solo l'apparato e il sistema requirente che fa capo ai pubblici ministeri, ma parliamo anche di provvedimenti quando più delicati sono più vengono affidati ad autorità terze, in posizione di terzi età, quindi giudici, che danno sicuramente tutte le garanzie per poter procedere in maniera corretta in questo campo. Questo nel nostro orticello perché tale oramai si può definire il contesto nazionale, è un orticello e ce ne stiamo rendendo conto sempre di più perché puntiamo sempre verso l'esterno e quindi da qui la necessità della cooperazione, la fondamentale importanza di trovare lingue comuni per capirci con l'estero ma anche far arrivare messaggi importanti all'interno della compagine nazionale. Molto indicativa è stata la slide che ha indicato quella esorbitante richiesta di intervento che per esempio viene rivolta a Google ma vi assicuro viene rivolta così a Facebook e a tutti gli operatori del mondo del web che riguarda ad esempio il reato di diffamazione. È una mole enorme di richieste che finisce con l'ingolfare il sistema italiano che ingolfa i famosi gangli di trasmissione verso l'estero, quindi gli organismi di trasmissione e che poi si riversa sugli attori stranieri, vedi Google, vedi Facebook, creando un intasamento totale che blocca il sistema e non lo fa procedere per quelle che sono fatti specie di reato più gravi. Allora ben sarebbe far entrare nel nostro sistema alcuni elementi di chiarezza che spiegano in maniera decisa, chiara che certi fatti specie, certi modi di pensare non sono ugualmente avvertiti in altri contesti tipo ad esempio negli Stati Uniti d'America. Quindi pretendere provvedimenti immediati di rimozione, di risoluzione, di blocco di certi contenuti o di certi flussi di comunicazione è decisamente inutile e serve soltanto ad ingolfare il sistema. Detto questo invece l'attività investigativa è fondamentale infatti di estrema gravità sul piano criminale. Chi ha la gestione dei dati, Google è una miniera fondamentale da questo punto di vista, ha oramai avviato uno sperimentatissimo rapporto di collaborazione anche col nostro Paese per cui ha una struttura italiana giuridica che ci permette di affrontare in maniera oramai abbastanza standardizzata attraverso delle procedure, delle policy molto fruttuose quelle che sono i canali di richiesta di dati veri, di dati sensibili. Il problema dei dati è però da vedere anche da un altro punto di vista e cioè i dati oggi sono il potere, lo sono sempre stato, l'informazione è sempre stata l'equivalente del potere da sempre nella storia, oggi però le informazioni tramutate in dati quindi in qualcosa di digitale possono determinare un accumulo di informazioni veramente enorme e chi più ne detiene più ha potere ma il dato deve essere tutelato e il dato deve essere, stamattina si discuteva a lungo di questa problematica su cancellazione o conservazione di dati, ma il dato deve essere anche conservato, parlo come investigatore perché molto spesso è fondamentale, anzi direi quasi sempre, è fondamentale, è essenziale per realizzare una vera tutela del dato poter contare sulla conservazione di alcuni dati venendo a mancare i quali sarebbe assolutamente impossibile poter fare alcun tipo d'attività concreta e questo è un altro aspetto fondamentale. Parlando della tutela invece del dato in termini di sicurezza pura, di attività quindi preventiva di tutela vera dell'utente e di tutti quanti noi il discorso è ancora più complesso dando per scontato che il dato è potere e oramai di comune conoscenza tutti lo sentono, lo avvertono a pelle che essendo tale la valenza di questi dati sono diventati il vero oro della nostra società, cioè in realtà la maggior parte dei grandi crimini che vengono oggi commessi attraverso la rete e sulla rete sono crimini che puntano l'accaparramento dei dati, questo è il grande business che sta mettendo a rischio il nostro sistema e dovendo riassumere un concetto complicatissimo, delle problematiche enormi dovendo andare ad individuare tra virgolette quelli che potremmo considerare i due punti deboli del sistema, inevitabilmente la mente porta da una parte a quelle che sono i grandi agglomerati di dati Google per esempio è uno dei soggetti che incarna questo tipo di situazione i famosi big data center, oggi ancora più resi sensibili e aggredibili quando si pensa che il domani se non l'oggi proprio è affidato ai servizi di cloud computing quindi alla delocalizzazione in realtà di difficile individuazione però di enormi quantità di dati sparsi così davvero per il mondo da una parte e quindi questo perché l'aggressione a queste grandi banche dati è la rapina di oggi, cioè le rapine a cui pensavamo fino all'altro giorno saranno queste saranno rapine alle banche dati da una parte, dall'altra c'è l'altro aspetto fondamentale i dati li abbiamo anche noi, cioè li deteniamo, li possediamo noi mai nella storia si era in passato avvisto una possibilità per il comune cittadino, per il singolo uomo della strada di poter avere una fortissima, un enorme condensato di suoi dati personali in piccoli strumenti che oramai sono diventati i nostri computer o comunque tutti gli strumenti digitali di cui disponiamo in passato si avevano le lettere conservate in un cassetto, si potevano avere alcuni appunti riposti da qualche parte ma oggi abbiamo quantità enormi del nostro essere come privati cittadini che conserviamo nel nostro computer nei nostri devices come ci suggeriscono gli statunitensi e allora la tutela, la sicurezza di quella gestione di dati è diventata essenziale ecco l'altro punto debole del sistema, punto mole del sistema e noi su questo tipo di intervento da una parte la tutela delle grandi ecco perché è fondamentale la collaborazione tra aziende e privati, cittadini e grandi imprese perché sono entrambi a rischio ma a rischio di cosa? Il problema più serio che c'è dietro questo fenomeno è vero sì quello dello spostamento su mani criminali di grandi quantità di dati e questo è il fenomeno criminale puro ma l'aspetto negativo è un altro ed è quello che si possa ingenerare in tutto il sistema si possono ingenerare sensazioni di insicurezza oggi è oramai accezione comune che ogni sistema politico debba cercare di garantire una sicurezza nel settore della tutela dei dati quale è il presupposto fondamentale di una fiorente attività economica perché se io non garantisco a tutti gli operatori un sistema di poter avere un sistema sicuro da questo punto di vista non si faranno più investimenti non si creeranno più attività economiche, ecco questi i grandi poli attraverso i quali ci si muove e si cerca di esplicare la nostra attività. Io mi rinvierei alla parte... Grazie Antonio Appruzzese, direttore della Polizia Postale delle Comunicazioni.